Edizione natalizia di Acqua e Sapone News! Auguri! Vale, sai chi ci porta i regali quest'anno? Babbo Natale! Eh no! Giuliana Moreira! Auguri! Casa pulita Natale con Super5! Black Mop è in offerta a 14,90€ Panno a frangia piatta, piattine snodate e sistema lava-asciuga per avere superficie sempre brillanti E trovi anche Scopamia a soli 9,90€ Con le sue settele svasate in silicone è ideale per interni ed esterni Crediamo anche noi la letterina? Cara Babbo Giuliana, vi chiedo un regalo, portatelo via! La linea Detergenza Viso Nivea in promozione come le Clear Up Strip per la zona T in offerta a 3,69€ E trovi anche lo Struccanti a occhi e doppiazione a 2,99€ E solo d'acqua e sapone con due prodotti della linea Detergenza Viso Nivea in omaggio ai mini shampoo Hair Milk Nivea Che fai a Natale? E beh sì, tempi d'ormo Scenete romantiche e aspettiamo insieme Babbo Natale? Sì, aspettiamo sotto il vischio! Auguri! Acqua e sapone, oltre alla convenienza! Ciao! Grazie a tutti.